L'unico motivo per cui usavo l'amore degli altri, per guadagnare soldi, era il mio stesso futuro. Come tutti ben sapete, una regola proibisce le relazioni tra ragazzi e ragazze. Sappiamo che tra voi due c'è qualcosa. Va bene. Love Keeper. Ne sapete qualcosa? È qualcuno che aiuta la gente che viene segnalata. La tassa da pagare è di 200.000 yen. E ora? Sei tu, vero? Love Keeper. Voglio collaborare e dividere i profitti. È una missione fondamentale per garantire l'ordine alla Suran Academy. Gli alunni si controllano a vicenda. Dovrete agire da deterrente per i vostri compagni. Sì. Ti prego, aiutami. Credo che qualcuno abbia fotografato me e il mio ragazzo mentre eravamo insieme. Verrà immediatamente espulso. Se vedete alunni in atteggiamenti sospetti, parlateci. Nessun atteggiamento equivoco dovrà essere tollerato mai più. Non vedo cosa ci sarebbe di male in un'Escalation. Finché esisterà quella regola, la possibilità di amare qualcuno verrà schiacciata senza porsi domande. Glielo chiederò di nuovo. Avete avuto rapporti sessuali? Risponda avanti. Per studiare in questa scuola bisogna impegnarsi per essere vere signore. Non ho chiesto io di nascere in questa domiglia. E Chica lo faceva per i soldi. Però poi le cose sono cambiate. Quella che sta per cominciare è una testimonianza di come noi ci siamo fatti male. Abbiamo lottato. Abbiamo resistito. In un mondo in cui l'amore era una cosa proibita. In un mondo in cui l'amore è un unghiolo. it- Un mondo in cui l'amore. Her gazz essere più giocato.